E rimaniamo su Agropoli, tutto pronto per la Notte Blu in programma per giovedì 11 luglio. Nel prossimo servizio tutto il programma della serata. Tutto pronto per la seconda edizione della Notte Blu in programma ad Agropoli giovedì 11 luglio, promossa ed organizzata dall'amministrazione comunale agropolese. Il programma dettagliato e le finalità sono state presentate nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Franco Alfieri, l'assessore alle politiche per il commercio Eugenio Benevento e l'assessore ai servizi ambientali Massimo Laporta. Momento centrale della manifestazione sarà la consegna ufficiale della Bandiera Blu 2013 agli stabilimenti balneari, in programma alle ore 21.30 in piazza Vittorio Veneto. Dalle 21 il via alla serata, nelle principali vie cittadine sfileranno artisti di strada e gruppi folk, oltre ad esibizioni varie in piazza e lungomare, in più in piazza della Repubblica spettacolo dedicato ai più piccoli.